Ieri sono accaduti nel nostro Paese fatti gravissimi, a nostro avviso è in discussione la tenuta democratica del nostro Paese, l'aggressione al Presidente della Repubblica Mattarella e la solidarietà dell'intero Partito Democratico calabrese, non ha precedenti nella storia del nostro Paese, è evidente che il Partito Democratico mette in campo iniziative non solo di solidarietà verso il Presidente della Repubblica ma anche di sostegno verso le istituzioni democratiche, quindi semplicemente una riunione del gruppo dirigente per mettere in campo nei prossimi giorni un'iniziativa così come si sta facendo in tutte le regioni d'Italia e in tutti i territori del nostro Paese.